Vi ha fatto vivere divertenti avventure con Ponyo e Totoro Ora Wow, un maiale! Vi farà volare ancora più in alto Porco Rosso, venditi subito in volo Un aeroplano rosso! Dal premio Oscar a Yao Miyazaki Porco Rosso contro Donald Curtis! Il maiale è diventato l'asso dell'Adriatico Si vola! Porco Rosso, dal 12 novembre al cinema